Salvaguardare i più deboli, capire quale cane di assistenza possa essere più adatto per iniziare un percorso di rinascita, per superare le difficoltà di chi ha bisogno. Questo è il progetto che nascerà nel rifugio, il giardino segreto di Sassari, dove tutti gli animali sono famiglia. Si lavorerà particolarmente con i bambini disabili, con educatori cinofili che si occuperanno di formare il cane d'assistenza all'interno di un ampio spazio di agility. Il rapporto con gli animali è da quando ho avuto una malattia che mi ha portato a essere una disabile. Il cane mi ha portato fuori dalla depressione, dalla malattia, mi ha fatto uscire da casa. Supporto il giardino segreto, cercare di dare l'educazione, guinzaglio, l'educazione base ai cani che poi andranno in adozione. Faccio parte dell'associazione Atto d'amore, si chiama, e abbiamo l'intenzione di fare campo di agility e tutte le altre attività che si possono fare in cinotecnica. Oltre che Atto d'amore ha aperto una lista per i disabili che vorrebbero avere un cane d'assistenza. L'importanza di avere un cane per superare la malattia è lo slogan che colpisce e che va oltre ogni limite, accendendo quella speranza che si concretizza in un fatto realmente accaduto, come ci spiega Fabrizio. Dall'età di sei anni sono affetto da una sindrome rara. Questa malattia appunto mi ha fatto finire sulla sedia a rotelle e circa dieci anni fa ho espresso un desiderio di avere un cane d'assistenza che è stata un po' la mia rinascita perché Kira mi ha dato la mia seconda vita e infatti grazie a lei e allo sport con lei, l'agility più in generale, pian piano mi sono rialzato dalla sedia a rotelle. Siamo entrati a far parte della nazionale italiana di paragility e quest'anno per me sarà il quinto mondiale a settembre in Portogallo.